Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano code a tratti per lavori tra il raccordo Lucca, Via Reggio e Versilia, in direzione Genova. In A1 per lavori di manutenzione e posa cavi elettrici, domani notte, in orario 22.6, sarà chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata verso Roma. Sulla FIPILI per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, stanotte, in orario 22.6, saranno chiuse l'entrata di Scandicci e la corsia di marcia tra i chilometri 3, 350 e 2, 600, tra la Strassigna e Firenze-Scandicci, in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina Scandicci, per un cedimento della carreggiata a causa di un guasto alla fognatura, chiusa via De Ledda tra via Turri e via Pascoli. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, a Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!